Dio Dio, a livello psicologico sì, è un buon risultato, da fiducia, diciamo così, da fiducia, da fiducia perché i ragazzi hanno dato il massimo di loro stessi, hanno fatto sì di fare una buona gara a Roma, non era facile, non perché la Roma fosse per l'ambiente, la settimana, cambio allenatore, molto tensione, dicevano tutti che eravamo una vittima quasi predestinata, invece i ragazzi hanno dimostrato il carattere, di essere sul pesto, di capire le situazioni e hanno decisamente meritato a questo punto perché stanno producendo un grande sforzo in questo momento qua, anche nel partito con il Palermo, con l'Empoli, non tenendo molto meno di quello che potrebbero ottenere in base ai risultati numerici. Ma quello che bisogna andare ad atto è che Ciolec sia il giocatore che è asciutto in modo esponenziale in questo momento, perché a passo, a forza, a dribbling, a qualità importanti per il gioco attuale del calcio, deve migliorare un po' le cose che si possono migliorare, la tecnica, ogni volta il movimento, ogni volta senza palla in cave di chiusura, però la forza che ha lui, oggi ne sa qualcosa, digne sulla destra, mi sembra che lo sognerà stavolta perché il ragazzo veramente ha delle qualità per me importanti e in questo momento qui per Verona è un giocatore non fondamentale, però per la sua velocità, per la sua aggressività nello spazio abbastanza importante. Ieri ci dicevi che oggi inizia un nuovo campionato, è iniziato bene. Sì, potrebbe iniziare meglio, perché se noi in finale sfruttavamo quella scuola di partenza con una giocata diversa da quella che abbiamo fatto, secondo me la partita finiva 2-1 alla fine, perché eravamo una situazione su un calcio d'angolo, una di partenza con 4-1, abbiamo scelto la soluzione meno adatta. Abbiamo scelto una soluzione, però non dobbiamo imparare a scegliere la migliore delle soluzioni e il passaggio futuro sarà questo, la scelta della soluzione migliore per farle male agliate. Che pressione ne ha fatto la Roma? Ha passato una settimana molto difficile, molto complicata, perché i cambi allenatori comunque scombussolano un po'. Tra l'altro prende meno importanza nella partita, più importanza nelle situazioni che si verificano all'esterno. Non penso questo di Luciano, perché Luciano la partita la preparata sicuramente bene, perché sapere di affrontare una squadra che stava giocando bene ultimamente. Paga il momento difficile, paga il momento di cambio, la Roma è un ambiente dove tu devi vincere, e quindi è chiaro che in questo momento qua la delusione è ancora più feroce, ma io penso però che l'abbia giocatori importanti, un allenatore salvatore suo conosce l'ambiente, che è importante, e saprà sicuramente dare alla Roma quegli risultati che tutta Roma si aspettano. E' chiaro che la Roma è una città ed è una società che vuole vincere il campionato, e questo mi sembra una cosa basilare per il futuro. Lei che ha allenato da Roma, perché è così difficile questa piazza? Eh dipende, i grandi cambiamenti, io sono venuto qua, sono stati grandi cambiamenti, lì sono stati fuori dalla Coppa dei Campioni per la monetina, sono situazioni un po' difficili. Ci vuole del tempo, il tempo, penso sia il tempo quello che è dannoso. Per creare una squadra di calcio ci vuole del tempo, la Juve ci ha messo tanto tempo a fare la ricrea, la puoi guardare la perata e la mantenuta. Però c'è un passaggio fondamentale, non si può ottenere tutto subito, bisogna avere del tempo, avere fiducia nell'allenatore o nella società che te la guida. E io penso che in questo momento qui la società, l'allenatore, lo staff, la gente stessa, gli dà la mano, abbiano la possibilità di uscire fuori da questo momento delicato, e riprendere la marcia che è un'abituata a vedere Roma, cioè l'uomo vincente, ha ancora il passaggio di turno a Coppa dei Campioni, fatto più importante che quello. E quindi si giocherà tutto nelle partite. Oggi, fatto due pali, poteva anche vincere la partita, però anche noi, mi fanno un palo, potevamo vincere. Quindi la barca adesso sta girando un po' anche per noi, per loro, un po' diversa. Il predominio sulla corsia destra con Scholek Suddini è stato qualcosa di studiato, nel senso che è stato individuato lì il punto debole della Roma, o si è delineato in campo? No, no. Penso che l'attacco allo spazio, l'attacco allo spazio sugli esterni. La Roma, studiando, aveva nella chiusura esterna l'uno contro l'uno lo soffriva, ma sia a destra sia a sinistra. Direi che in questo momento qui l'hanno fatto molto bene, anche se Digni e qualcuno l'hanno fatto in chiave all'attacco, perché accanto che lui ha problemi quando andava avanti. Però la forza di questo ragazzo qua ha fatto sì che lui avesse più timore di andare avanti che non di fermarsi e aspettarlo. Sul mercato quali sono le priorità? Adesso è un difensore, un difensore e soprattutto noi più che mercato ne avremo a recuperare i giocatori che ha fuori, che già con quello faremo mercato.